Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alla tecnologia e all'i-tech. Parleremo oggi di hotellerie, con noi Andrea Spaletti-Trivelli, brand ambassador del gruppo SLH, ma anche proprietario proprio di una struttura, una boutique hotel a Roma di Villa Spaletti-Trivelli. Il gruppo ha lanciato una collezione di hotel di lusso con una spiccata vocazione per la sostenibilità. Sono 26 hotel all'avanguardia e in 16 paesi 4 in Italia. Cosa vuol dire oggi viaggiare green? Oggi diciamo che viaggiare green vuol dire secondo me porre attenzione a tutto quello che ci si può evitare con i propri comportamenti e con i propri atteggiamenti. A livello di hotellerie l'impegno massimo, infatti come questa nuova collezione diciamo ci dice, si punta tanto su queste nuove strutture, quindi strutture di nuova creazione che hanno ovviamente una facilità maggiore nell'avere un approccio sostenibile green all'ospitalità. In quelle preesistenti che piano piano stanno cercando di recuperare terreno, l'obiettivo è intanto anche sensibilizzare, quindi fare un po' un'opera di sensibilizzazione su un cliente internazionale o nazionale che sia, a cercare di avere anche lui a sua volta nell'arco del suo viaggio e della sua esperienza un atteggiamento, un approccio un po' più ecosostenibile. Ad adottare comportamenti più ecosostenibili. Ecosostenibilità e tecnologia vanno a braccetto, l'innovazione in che modo poi aiuta le strutture ad innovarsi? L'innovazione sicuramente ci sta dando una grossissima mano perché ci permette innanzitutto di tagliare molti sprechi, che forse è il primo vero step che noi possiamo fare con le nostre forze e quindi stampare meno, sprecare meno a livello anche di F&B nei nostri ristoranti, nei nostri bar e dare soprattutto anche alle camere un approccio sostenibile, quindi puntare molto su una differenziata fatta come si deve, su prodotti che ad esempio nella nostra struttura noi usiamo un brand che usa solo bottigliette di plastica già riciclata, per cui anche lì andare a cercare collaborazioni con brand che vanno a ridurre il loro impatto sull'ambiente, cercando di farlo però conoscere e scoprire al cliente che viene, che possa magari poi adottarlo anche a casa sua o nel proseguio del suo viaggio e delle sue esperienze. Ecco invece la prenotazione, il booking com'è che cambierà e come sarà proprio l'hotel del futuro? L'hotel del futuro è una bellissima domanda e mi piacerebbe avere già tutte le risposte, è un vantaggio competitivo non indifferente, diciamo che gli hotel, l'innovazione li sta aiutando tanto per facilitare il processo di prenotazione per attirare soprattutto la clientela giusta, ovvero quel cliente che apprezzerà quella data struttura permettendoli di scoprirne certi dettagli, certe sfumature, certi approcci ancora prima di finalizzare il vero e proprio booking tramite una comunicazione più snella, più veloce e più a portata di mano. Ecco oggi il wifi non è più un semplice servizio ma è un mezzo attraverso cui costruire proprio una vera e propria esperienza di soggiorno immersiva e personalizzata. In che modo viene implementata nelle vostre strutture? Diciamo che si cerca di metterla a disposizione dei clienti per far sì che la loro esperienza poi alla fine sia ancora più immersiva nella realtà che stanno vivendo, quindi di sfruttare certi servizi degli alberghi che magari prima senza l'apporto di queste nuove tecnologie non avrebbero neanche mai riscoperto se non per caso o andando loro a curiosare in giro per le strutture. Quindi diciamo l'obiettivo è sempre quello, semplificare la vita dei nostri clienti per renderne le esperienze più memorabili e godibili. Senta ha fatto molto discutere la decisione del governo che è intervenuto con delle misure per in qualche modo bloccare gli affitti brevi di Airbnb o quanto meno razionalizzarli. Cosa ne pensa? Si va nella giusta direzione? Secondo me sì, non è questa una soluzione che si risolve il problema alla radice, sicuramente è un primo passo. Secondo me adesso lo step successivo sarà anche implementare i controlli su licenze, sul lato della sicurezza che molto spesso viene sottovalutato in certe strutture e far sì che poi chi ha tutte le carte in regola possa affacciarsi sul mercato e lavorare in serenità e sicurezza. Ecco ricordiamo che a Firenze il sindaco proprio Dario Nardella ha deciso, è stato uno dei primi di vietare l'uso di immobili con destinazione residenziale proprio per gli affitti brevi. Quindi per una città di Firenze le sembra una giusta decisione? Secondo me sì, non essendo di Firenze non conosco benissimo ovviamente le dinamiche fiorentine però conoscendo un po' la città presumo di sì, visto che comunque è un centro storico anche molto concentrato, molto piccolo, per cui il passo è breve che poi diventi veramente una città fantasma ed è un po' il rischio che ha corso e sta correndo anche Roma e secondo me queste nuove misure, se ben applicate, potranno risolvere anche questo problema ridando un po' di vita al centro storico di Roma che purtroppo si è un po' svuotato. Bene, grazie, grazie al nostro ospite per essere stato con noi e a voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie.